Ben ritrovati dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Cesare Martignone. Il traffico scorre a regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana. In FIPILI possibili disagi per lavori tra Ginesta Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Ricordiamo che la strada statale 330 è chiusa in località Viano Magra, nel comune di Aulla, Massa Carrara, in seguito al crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze, in direzione Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Donato e Tavarnelle e tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. Chiudo lo svincolo di Tavarnelle in direzione Firenze fino al termine dei lavori. Per la mobilità pubblica entrambia a Firenze sale a 103 posti la capienza massima consentita sui mezzi, predisposti dispenser con gel igienizzanti e nuova segnaletica su dove si potrà sedere e sostare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!